L'agricoltura sta cambiando molto velocemente e l'innovazione crea ogni giorno nuove sfide e nuove opportunità per le filiere agroalimentari. Per questo è necessario un aggiornamento quotidiano e costante. L'informazione, così come le macchine o i mezzi tecnici usati in campo, è uno strumento per produrre meglio. Con Agronotizie l'informazione è nelle tue mani, direttamente in campo. Ora puoi leggere Agronotizie non solo sul tuo computer, ma anche su smartphone e tablet. L'informazione accompagna l'agricoltore, il tecnico e il consulente, in campagna, in azienda, ovunque. Non esiste solo un'agricoltura. Esistono tante agricolture. Per questo Agronotizie ti fornisce contenuti personalizzati in base al tuo lavoro e alle tue colture. Grazie alla nuova sezione L'agricoltura per me puoi leggere notizie, prezzi, meteo, foto, video e approfondimenti di tuo interesse. Da oggi Agronotizie parla direttamente al mais coltore, al risicoltore, al peschicoltore. Ci sono tutte le colture. Agronotizie fa parte di un network che ha registrato oltre 10 milioni di pagine viste nel 2012. Abbiamo pensato il nuovo Agronotizie assieme ai 113.000 operatori iscritti, per essere al servizio delle oltre 700.000 persone che ci hanno letto nel 2012. Abbiamo lavorato per otto mesi. Agronotizie è il frutto delle idee del nostro team di giornalisti, tecnici, esperti di usabilità, specialisti in agricoltura. Agronotizie è la prima delle novità che ti offriamo in occasione dei nostri 25 anni al servizio dell'agricoltura. Su agronotizie.it leggi, conosci, condividi e raccontaci come vivi la tua agricoltura. Grazie a tutti.